Una giornata di sole, una giornata dove se gira a serra in qualsiasi minuto della giornata, anche al di fuori del corso, trovi un sacco di gente che ti saluta, turisti, emigrati, perché agosto è così, il cuore pulsante di serra. Oggi ci troviamo da Ecco Fatto, proprio la parola dice tutto, calzature e borse a prezzi incredibili. Io ho comprato già un paio di scarpe che al prezzo che l'ho trovato qua non si trova manco su Amazon. Adesso entriamo, tutto in diretta. Buongiorno, eccoci qua all'interno del negozio, guardate, subito si vede la pulizia e la professionalità dei titolari. Hanno varie aperture per far circolare l'aria, ma soprattutto per far entrare la luce, perché la luce esterna è più importante di quella interna. La luce ti fa capire, ti schiarisce le idee, ma soprattutto ti fa vedere questi meravigliosi modelli. Oltre alle borse, i portafogli, i marsupi a tracolla, qui vige la professionalità. La passione soprattutto, scarpe da donna stupende, scarpe da uomo, ci abbatte, ma soprattutto scarpe di questa estate che è già alla fine, perché lo sapete meglio di me che fino agosto la gente va via. Quindi approfittatene, venite qua, vi comprate scarpe di marca, ma soprattutto ricordatevi che qua c'è la trasparenza. Quindi scarpe a prezzi modici, non è l'outlet della scarpa, non sono scarpe difettose che vengono poi scartate dal mercato per essere vendute. Qua ci sono scarpe originali. Io per esempio ho comprato adesso un mocassino, che adesso è tornato di moda, ha un prezzo ottimo, 45 euro ve lo voglio dire, dove su Amazon se venite, andate a comprare un Wrangler ci vogliono 90 euro. Quindi venite, ecco fatto, poi vabbè ci sono i borselli in pelle, antisudore, e poi tantissime scarpe dell'Igeco, dell'Enval, tante scarpe di marca, scarpe anche della Carrera, della Fila, a prezzi veramente fantastici. Quindi vi aspettiamo, ecco fatto, ci troviamo a Serra San Bruno, dove prima, se vi ricordate, c'era il Lion Bar. Quindi ecco fatto, vi aspetta con una vasta esposizione di prodotti, ma soprattutto anche scarpe per questo imminente inverno, che le comprate a metà prezzo adesso, quindi muovetevi. Un saluto a tutti, a Gij e da questo posto meraviglioso è tutto.